164 guida sconosciuta abbiamo tante cose da dire abbiamo la necessità di contattare canali puliti cioè scevri dalle tante sovrastrutture mentali che la vita sul vostro piano vi impone facile non è per noi parlarvi perché le vostre menti pongono tanti ostacoli quando ritenete che qualche concetto esca fuori dalle vostre logiche razziocinanti ecco perché molte volte le infarciture di conoscenza non vanno d'accordo con le nostre comunicazioni solo un cuore aperto e una mente libera sono in grado di percepire la realtà più vera quindi quando un canale si rende disponibile la cosa che più ci interessa è la sua preparazione esiste una specie di scuola diciamo così che insegna l'arte della quiete interiore è una scuola dell'anima dove questa viene sollecitata a livello vibrazionale cioè i tuoi corpi sottili vengono sottoposti a tali sollecitazioni affinché a livello del corpo fisico e quindi attraverso i tuoi recettori possano arrivare quelle informazioni che permettono alla tua mente di acquietarsi è un processo che richiede tempo in termini vostri chiamatelo d'iniziazione e a questo processo vengono sottoposti i canali prima di iniziare continua 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 Grazie.